Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. In A12 controllo della velocità tra Cole Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Sulla FIPILI fare attenzione per personale su strada tra centro intermodale est e centro intermodale ovest in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra Cole Valdelsa Sud e Badesse in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia riduzione di carreggiata per lavori tra Scarlino Scalo e Rio Torto. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero senso unico alternato per lavori tra Borgo Ammozzano e Bagni di Lucca. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!